Sicuramente lavorare per il Giro d'Italia è innanzitutto tanta passione. Riuscire a fare un lavoro inserito nella passione che uno ha per il proprio sport è una cosa fantastica. Detto ciò, questo mi ha permesso di tornare in un paese, Soveria Mannelli, dove i miei genitori sono nati, cresciuti e poi sono emigrati al nord. Ho avuto la fortuna, grazie al Giro d'Italia e grazie agli amici del comune di Soveria Mannelli, di ritrovare zii, zia, cugine e i parenti tutti di Soveria. Quindi un grosso saluto a Soveria e ci rivediamo a maggio per il Giro d'Italia. Soveria e ci rivediamo a maggio per il Giro d'Italia.